Buonasera e ben ritrovati a tutti sul canale di RubaldoGamer Come sempre qua siamo su Paragon Online e vedremo come utilizzare una classe Come utilizzare le sue skill, come muoverci nella mappa e come supportare i nostri alleati di squadra per vincere la partita Quindi iniziamo subito a generare una partita Qua purtroppo mi ha dato questa segnalazione perché nell'ultima partita che ho fatto mi si è disconnesso e non ho avuto modo più di rientrarci E ci sta dicendo appunto semplicemente che se continueremo a leftare delle partite riceveremo un ban che è una cosa giustissima Siamo i primi a selezionare l'eroe, prendiamo l'eroe Decker Decker è un eroe incantatore ed è un eroe di quelli di supporto Infatti è in grado, grazie alle sue numerosissime skill, di stunnare e rallentare e aiutare i nostri compagni di squadra a uccidere i nemici Quindi come sempre vi ricordo selezionate il ruolo, quindi metterò supporto, seleziono la lane e metterò quella di sinistra Ed eccoci all'interno della partita che è iniziata Allora ragazzi, qui subito io prendo bomba di stasi che ci permetterà di infliggere un danno energetico di 75 ad aria Assordendo nell'aria di per 0,5 secondi Infliggerà oltretutto un danno inferiore ai minion Mentre se andremo a potenziarla più avanti, ovviamente lo stunn durerà di più Adesso scegliamo un mazzo, vi ricordo come sempre che prenderò un mazzo già preimpostato Per vedere in specifico i mazzi da creare, farò una guida a parte Quindi decidiamo di prendere questo, un mazzo intermedio Che è abbastanza bilanciato per quello che vogliamo fare noi Togliamo i suggerimenti, prendiamo come prima la pozione della cura, poi quella del mana E ovviamente il lume che ci servirà per spotare i nemici, quindi per vederli in mappa Adesso andiamo nella lane di sinistra e andiamo ad aiutare il nostro compagno di squadra Qui ho messo un marker per indicare che la corsia centrale è, diciamo, sguarnita e che richiede appunto una difesa Ok, siamo contro il personaggio Iggy e Scratch che mette appunto queste torrette che sono veramente fastidiose E vi consiglierei appunto di distruggerle per prima Poi adesso vi sto facendo vedere come funziona la Q Vedete ho lanciato questa sfera che è andata a stunnare per 0,5 secondi, molto poco L'eroe nemico E adesso niente, dobbiamo limitarci a farmare per salire un attimino di livello E staremo molto attenti a non regalare kill La corsia centrale intanto è di nuovo, diciamo, sotto assedio E non ci sta ancora andando nessuno Speriamo che presto, insomma, vadano a difenderla Qui ha piazzato un'altra torretta La distruggiamo subito E proviamo a ristrugnare di nuovo No, anzi Avanziamo ancora un po' Non ha senso tanto sprecare mana in queste circostanze E' sempre meglio un po' livellare e poi decidere di pushare Ecco, ho fatto il livello 2 e decido di sbloccare il secondo attacco che bolla di lentezza Infliggerà un danno di 60 energetico ad aria dopo 3 secondi E durante il tempo di questi 3 secondi rallenterò i nemici all'interno dell'aria Adesso vediamo se riesco a farvi vedere come funziona L'ho piazzato a terra, come vedete E tra 3 secondi esploderà infliggendo anche del danno Proviamo a vedere se riusciamo a killare questo Si è salvato, però l'abbiamo parato a base A noi ci basta così Adesso indietreggiamo per non prendere danno dei minion Vi ricordo che dopo l'ultima patch hanno potenziato notevolmente questi minion E il danno che fanno e quindi bisogna stare tanto tanto attenti Intanto il nostro nemico è rimasto da solo perché il suo compagno ha recollato Un'altra torretta fastidiosissima Ho fatto il livello 3 Distruggiamo prima questa torretta Ok, anche l'altra Bene, allora a livello 3 sblocco stivali razzo Che ci farà fare un balzo direzionale Quindi nella direzione che vogliamo Ci darà rapidità di 150 di velocità E la daremo anche agli alleati vicino a noi Ok, quindi Adesso stanno pushando veramente tanto Siamo a abbastanza difficoltà Quindi conviene rientrare sempre all'interno dell'area della nostra torre Vediamo se riesco a stunnarlo Ho mancato È abbastanza difficile da controllare il rimbalzo di quella sfera Però piano piano giocandola acquisirete più manualità Ok un altro livello Prendo sempre la Q La potenziamo Così durerà un pochettino di più lo stun Proviamo a stunnare Niente È mancato di nuovo Ralentiamolo quella è Ecco adesso dovremmo riuscire a prenderlo Mettiamo anche la velocità di movimento Dai 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 Proviamo proviamo Dai che ce la facciamo Dai 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 Caspita ragazzi Per un pelo Per un pelo Io sto per morire Devo fuggire Via 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 Dai 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 Ok Siamo a posto Ovviamente Recogliamo dentro la nostra area di torre Per essere più sicuri Ed eccoci in base Prendiamo come prima equip Vediamo sicuramente la corazza Sì che ci serve molta protezione all'inizio Ricordatevi che siamo una classe di supporto E quindi non dobbiamo Diciamo concentrarci molto sul danno Ma più sulla nostra resistenza In modo tale da durare di più E dare più supporto ai nostri compagni in squadra Questa è una classe diciamo che a livelli bassi Non da tantissime soddisfazioni Ma via via aumentando Avremo veramente tante soddisfazioni da questa classe Perché riusciremo a salvare i nostri team Da svariate situazioni E niente Più andremo avanti Ovviamente più infliggeremo anche danno Centro serve aiuto Indicano Ok però sta andando un altro nostro compagno Sono in tre E noi siamo contro altri tre Quindi ci serve aiuto anche qua Sono tutti ranged E sono belli tosti da buttare giù questi Proviamo a stunnare Ok Dissugiamo la torretta Che ci sta facendo molto male Eh ci stanno pushando davvero bene Siamo in seria difficoltà Però noi siamo in tre Scusate noi siamo in due E loro sono in tre E quindi prendiamo anche un pochettino più di ex E quindi dal fatto Dal punto di vista diciamo della farm Ci sta andando un pochettino meglio Ho sbloccato A livello 5 La mia ultimate Che ha questo raggio In pratica creerò una prigione Dove intrappolerò i nemici Adesso Magari Più avanti vi faccio vedere Anche come funziona E una volta intrappolati Questi nemici Non potranno uscire Da questa prigione Noi potremo sia entrare Che uscire E ovviamente potranno fare lo stesso Anche i nostri alleati Ok 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 Grazie. Ok stiamo attaccando la centrale, perfetto, mentre teniamo occupati questi, ottimo, e l'abbiamo distrutta alla grande, alla grande, ottimo lavoro. L'abbiamo mancato di un soffio qua, distruggiamo sempre la torre. Stiamo ancora pushando al centro, ottimo per noi, proviamo, dai ad attaccarla, vediamo cosa riusciamo a fare, dai che ce la facciamo, aia, 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 mi sta facendo malissimo. No, per uno sputo no, per uno sputo si è salvato, oddio, via 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 via, proviamo a suonarlo alla grande, proviamo a scappare, via 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 via, ce l'abbiamo fatta. Andiamo sempre in torre e recogliamo. Ciò siamo visti a brutta, ma il nostro team è davvero molto molto bravo e ci sta aiutando tantissimo in questo. Potenziamo sempre la nostra armatura, che è fondamentale. E ripartiamo, ah mi sono dimenticato di curarmi ovviamente. Ok siamo pronti. Buono, stiamo pushando sempre la corsia di centrale, addirittura solo con i minion, ottimo, perché così possiamo dedicarci ad altro. Stanno venendo i nostri compagni ad aiutarci sulla sinistra, quindi diciamo che siamo esattamente quattro, forse contro due. Vediamo un po'. Vediamo, 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 se riesco ad aiutarli. Ok, suoniamolo. Ah, abbiamo mancato. Però c'è il nostro amico che lo sta prendendo da dietro, blocchiamolo con la prigione. Cacchio, l'abbiamo mancato ragazzi. Di un soffio. Però dai, almeno l'abbiamo ucciso. E niente, vi farò vedere come utilizzarla più avanti. Purtroppo ho lisciato di proprio un secondo il nemico. Oh cavolo, sta arrivando da qua. Lo stugniamo tranquillamente e andiamo via sotto torre. Abbiamo distrutto la torre, ottimo. Ahia, tranquillato. E qui ho bisogno d'aiuto. Sogniamolo e scappiamo. Ok, siamo salvi. Per il momento siamo salvi. Però qua mi serve aiuto, quindi devo mandare un messaggio d'aiuto. Ok, sta arrivando. Ralentiamoli, ormai sono entrati. Ci sfonderanno tutto, blocchiamo lui. Niente, niente, è andata la torre, andiamo via. Andiamo via. Via. Usiamo il salto per uscire dall'ultimate dal mago. Intanto stiamo pushando a destra, ottimo. Li teniamo impegnati qua. Ecco, si sono spostati perché non vogliono perdere la torre. E noi intanto qui continuiamo a pushare un po'. Adesso raccogliamo perché non abbiamo più mana e non ha senso rimanere qua. Ah cavolo, mi dimentico sempre di recuperare il mana. Ritorniamo su. Ritorniamo su. Ok, a questo punto dobbiamo tentarci tutto per tutto e cercare di respingerli perché si sono avvicinati troppo alla nostra area. Bisogna cercare di contenerli. Anche al centro si stanno facendo sentire parecchio. Quindi dobbiamo cercare di contenerli un attimino. Ok. Ok. Oh cavolo. Cosa possiamo fare qua? Bisogna... Niente, cercare di respingerli a boh. Potremmo usare la prigione. Sì, sì, andiamo. Stugniamoli. Perfetto. E utilizziamo la prigione su di lui. Stugniamolo qua. Come vedete non può uscire. E rimbalzando prenderà addirittura del danno. E l'abbiamo fatto alla grandissima ragazzi, alla grandissima. Vedete come riusciamo a ribaltare le sorti di una battaglia con questo personaggio. Anche se non facciamo danno. Però li abbiamo bloccati i stunnotti e il nostro gruppo ha fatto il resto. Adesso andiamo nella corsia di destra che stanno sfondando la torre. Vediamo se riusciamo a prendere anche lui. Sì, eccolo qua. Alla grande. Ho velocizzato i miei compagni e niente. L'abbiamo distrutto in un unico colpo concatenato. Adesso possiamo recolare. Abbiamo la bellezza di 7 punti da spendere. Anzi, direi di pushare un attimino qua finché abbiamo mano e poi recogliamo. Va bene, possiamo andare a recolare. Ok ragazzi, a questo punto andiamo a pushare un pochettino a sinistra. Ok, stanno arrivando sotto a torre. Allentiamoli qua. Vabbè con la nostra magia d'aria. Mettiamo una ward qua. Non si sa mai. Per un pelo ragazzi, è praticamente distrutta. Al centro c'è una vera massa di persone. Direi che pushiamo ancora un po' qua. E poi andiamo subito al centro a dare una mano. Sì, perché si stanno avvicinando troppo alla nostra torre. Quindi facciamo questo e adesso andiamo avanti. Andiamo direttamente... Eh sì, al centro andiamo. Ok, passiamo da qua. Cerchiamo di prenderli anche un po' da dietro. Tra 14 secondi ho la prigione di nuovo. Quindi possiamo utilizzarla. Caspita, mi sono messo in un piccolo a cieco. Vabbè, passiamo da qua. Ok, sono 1, 2, 3, 4. Andiamo, andiamo, andiamo. Ok, alla grande. Hanno già ingaggiato. Andiamo, 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 andiamo. Stuniamo qualcuno. Di prigione. Catti 2. 1 morto. Vediamo lui se riusciamo a prenderlo. Sì, è fatto. Alla grandissima ragazzi. Alla grandissima. Mamma mia. Ottimo, ottimo. Andiamo se riusciamo a prendere anche lui. Stuniamolo. E alla grande. Veniamoci l'orbo rosso. Tanto per. E pushiamo. Pushiamo la corsia centrale che sono morti in 4. Quindi, caspita ragazzi, se lo pushiamo adesso. Intanto stiamo pushando a destra, a sinistra con i minion. Quindi, mamma mia, che azione ragazzi. Ottimo. Ok, lui è rimasto d'assolo. Vediamo di stunnarlo. No, no. Ora. Spariamo anche la E. Qua ci sono un minion. E usciamo perché se non ci attacca la torre. Ok. Ci sono in 2. Indietreggiamo un po'. Bella. Uh. Mamma mia, si è salvato con un pelo di vita. Vabbè, vabbè. Indietreggia, indietreggia. Ti do la speed. Ti do la speed col tasto destro. Così vai più veloce. Fuggi, fuggi, fuggi. Prendiamo la E. Ok, adesso vediamo cosa vuole fare a questo. Meglio indietreggiare la torre. Via, 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 via. Via la torre. Ok, recogliamo che abbiamo 6 punti. Dobbiamo spenderli subito prima che arrivino i nemici. La grandissimo. Feng Mao ha acceso 1. Potenziamoci questo e direi che possiamo anche chiuderlo. E abbiamo già due keep che ci danno tantissima difesa e vita completi. Abbiamo 1.900 di vita. Siamo molto molto bardati. Ok, a questo punto andiamo a pushare un po' al centro. Anzi, forse qua a destra. Sì, sono in due. Conviene andare a dargli una mano comunque sia. Andiamo, andiamo, andiamo. Allarme. Sta arrivando, corsia di destra. Avvisate sempre, utilizzateli questi comandi che sono molto molto utili. E danno anche comunque un supporto visivo ai nostri compagni di squadra che non sono in TS con noi. Quindi non possiamo parlarci. Ed è sempre una cosa buona. Caspita, è arrivato anche questo. Dai, però dovremmo farcela. Allora, lui lo stunno così non lancia l'ulti. Eh, l'ha già lanciata, vabbè. Facciamo via da qui. Via, 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 via. Blocchiamo lui. Entro la barriera. Vediamo se viene ad aiutarci qualcuno. Se no siamo morti. Ok. Una laggatina, scusatemi. Sta un po' laggando. Forse sta scaricando qualcosa, non lo so. Ma oggi mi lagga un pochettino. Rissuggiamo qua. Eh, sono un bel po' qua, eh. Sogniamolo. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Proviamo a inseguirlo. Eh, togliamo troppo a poco. Anche lui è un tank. Resiste troppo ai nostri danni. Purtroppo. Diventiamolo. Ah, niente, lasciamo perde. Troppo, troppa vita. Bene, dietreggiamo un po'. E recogliamo che abbiamo pochissimo mana. Caspita, corsa di sinistra è sotto attacco, quindi direi che andiamo a difendere là, subito. Recuperiamo un po' di mana e andiamo. Sta arrivando, sta arrivando. Per fortuna abbiamo il buff nero e facciamo un pochettino più di male ai minion. Ok, livello 11. Mettiamoci la E. Grandissimi, abbiamo di sotto la corsia centrale e ancora un'altra torre. Qui pusho un po', per sicurezza. Mettiamo anche la ward. Grandissimo Fangman, una macchina da guerra. Qui pusciamo sempre. Eh, mi dà delle lagate, oggi incredibile. Ah, ce ne hanno uccisi due dei nostri. Puscio ancora un pochettino. Eh, poi vado a destra, anzi andiamo subito. Meglio non aspettare. Uh, ce ne hanno ucciso un altro. Cazzarola, siamo in due. Siamo in due. Bisogna reggere qua al centro. Siamo in due. Andiamo a destra. No, dai, ce la fanno. Sono in due. Continuiamo poi uscire qua. Con questo personaggio mi riesce veramente difficile last hitare, perché non fa tantissimo danno e quindi non riesco a regolarmi bene. Però voi, insomma, quando lo usate, cercate sempre il last hit fondamentale. Beh, a questo punto andiamo ad aiutare a destra, vediamo un po'. Ok, vediamo un po'. Eh, ci hanno visto, ci hanno visto. Via, 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 via. Via. Ok, vediamo qua. Se riusciamo a farci questi. Uh, l'assassino sta andando. Via, 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 via. Vai, ingaggiamoli. Facciamo questo. Eh, blocchiamoli con la prigia. Oddio, il mago. Vabbè, lo stogniamo. Non c'è problema. No, l'ho mancato. Blocchiamolo qua. Eh, andiamo, ragazzi, andiamo. Pushiamo, pushiamo. Più che possiamo qua. Ah, pushiamo. Ehi, ci hanno sparato un ulti da lassù. Andiamo avanti. Spacchiamoli anche questa torre. Non fermiamoci. Siamo in quattro. Via, via, la grande. Oh. È nostra. È andata, è andata. Oddio. Aia. Cerchiamo di resistere. Suoniamolo. Ah, mancato. Che pushiamo qua, dritti. Caspita, ce l'hanno ucciso un altro. No, ci uccidano anche questo, sì. Via, indietreggiamo. Via, 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 via. Ok, via, via, via da qua. Abbiamo sette punti, quindi direi che possiamo anche recollare. E possiamo prenderci anche l'equip. Vabbè, li stiamo distruggendo anche quella centrale. Ci mancava uno sputo della corsia di sinistra e poi andiamo ancora più avanti. Ok, prendo un po' qua e recollo. E andiamo, ragazzi. Si sono arriesi perché ormai era fatta. Avevano solo un inibitore, quindi era normalissimo che si arrendessero. Bene, ragazzi, io con Decker vi ho fatto vedere tutto. Vi ho fatto vedere come utilizzare le skill, un po' di equipaggiamento da prendere, come poter aiutare i nostri compagni di squadra. E come avete visto, si rivela una classe veramente, veramente molto utile di supporto. Vi ricordo, come sempre, che se vi è piaciuto questo video, di lasciare un like, iscrivervi al mio canale. Se vi è piaciuto, inoltre, condividetelo con i vostri amici. Per me è davvero importante e ne sarei davvero gratto. Se avete qualche dubbio, lasciate un commento e io vi risponderò il prima possibile. Ci vediamo, come sempre, nel mio canale per le prossime guide su Paragon. Un saluto da Rubaldo, alla prossima!